portacaricatori doppio della openland in cordura milleden molto solido resistente elastico per dire tenuta per i caricatori davanti vediamo dei passanti per attacchi molle per cui potrebbe essere anteriormente addizionato con altre taschine e sul retro abbiamo i classici passanti molle per agganciarlo al cinturone giletta attico o ovunque voi abbiate bisogno di metterlo il doppio caricatore rimane di facile presa in quanto quello avanti è più basso e quello sul retro è più alto basta semplicemente spostare l'elastico e caricatore viene via facilmente questi elastici sono molto resistenti di buona tenuta per cui anche rovesciando non cade mai costruito con soliti materiali semplice pratico e funzionale l'altezza l'elastico è possibile regolarla spostando semplicemente il nodo oppure sostituendo l'elastico per renderlo più lungo più corto a seconda di come lo desideriate con l'elastico per rendire